Parlato di legalità abbiamo anche ricordato la figura di Paolo Giacchone, insomma comunque una giornata importante. Sì, senza dubbio. Per il nostro club, il Lions Club Palermo Host, Paolo Giacchone, che ne è stato socio, è un punto di riferimento sotto il profilo non solo della legalità, ma anche del comportamento etico che ognuno di noi dovrebbe tenere. Perché, avendo l'affezione e il collegamento con le istituzioni in maniera particolarmente sentita, ha sacrificato la vita con coscienza e consapevolezza, lasciando però un fulgido esempio da cui troppo spesso noi non abbiamo il ricordo. E allora il Lions mira a effettuare un ricordo costante in modo tale che anche le nuove generazioni comprendano e che si dibatta sulla figura di Paolo Giacchone anche gli aspetti sociali che oggi più che mai sono di primaria importanza. Allora, traendo spunto alla commemorazione di Paolo Giacchone, insigne maestro e che ha dato la vita per la legalità, e oggi si è trattato di un tema che in questi giorni smuove il mondo medico, il mondo forense e anche quello parlamentare. In pratica si parla della nuova legge sulla responsabilità professionale del medico. Presso la sede dell'ordine dei medici, sì, si possono trattare anche articoli inerenti, fatti specifici, ma principalmente si è voluto ribadire che dietro la responsabilità del medico ci stanno dei valori etici, morali che vanno al di sopra di qualsiasi legge, che è la legge appunto della professione dell'arte medica.